Dopo che l'anno scorso in Italia sono aumentate del 520% le importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia, è un errore l'accesso temporaneo supplementare al mercato dell'Unione di altre 35.000 tonnellate ad azio zero per quest'anno e per il prossimo anno. Lo afferma la Coldiretti in riferimento al via libera data dalla Commissione internazionale del Parlamento europeo e sulla quale hanno espresso preoccupazione numerosi europarlamentari italiani, il nuovo contingente agevolato secondo l'organizzazione agricola va ad aggiungersi alle attuali 56.700 tonnellate ad azio zero già previste dall'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Tunisia, ciò che porta il totale degli arrivi agevolati a quota oltre 90.000 tonnellate. Bruxelles ha deciso questa misura per dare un aiuto concreto all'economia tunisina che versa oggi in crisi gravissima e in questo modo sostenere gli sforzi del governo democratico di Tunisi. Secondo la Coldiretti però, pur salvaguardando la necessità degli aiuti democratici e degli aiuti economici al paese medio orientale, ancora una volta in Europa il settore agricolo diventa merce di scambio senza alcuna considerazione del pesante impatto sul piano economico occupazionale ed ambientale che sui territori locali italiani avrà questa decisione di Bruxelles. La Coldiretti ha fatto presente le proprie obiezioni e preoccupazioni all'intera delegazione italiana al Parlamento europeo. La protesta della Coldiretti però alla sessione plenaria del Parlamento europeo che si è svolta questa settimana a Strasburgo non ha prodotto per ora risultati perché la Commissione per il commercio internazionale si è espressa a favore dell'invasione dell'olio tunisino in Europa senza dazi doganali come prevede la Commissione europea. 31 i voti a favore e 7 i voti contrari, i voti cioè degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, della GUE, della Lega Nord e di Forza Italia. Noi non riusciamo a comprendere come possa la Commissione e nel caso specifico Federica Mogherini che è la proponente di questo provvedimento pensare che attraverso un incremento delle importazioni di olio d'oliva senza dazi si vadano a risolvere i problemi di radicalizzazione della Tunisia. Quando è la Tunisia a dirci che non è questa la misura che li aiuterebbe. Se noi fossimo al posto dell'altro rappresentante sicuramente chiederemmo che le misure di compensazione fossero date dai paesi più ricchi e non dalle regioni del Mediterraneo che sono già in difficoltà e che verrebbero piegata un po' la produzione da ulteriori misure restrittive.